bella raga benvenuti a tutti quanti voi oggi vi porta una brutta notizia ascoltate bene quello che vi dico è già il famoso sex symbol ishanyama lascia i social il turco così chiamato abbandona sia twitter che instagram però twitter non lo fa più l'avrà abbandonato sarà stata qualche idea di diletta o una sua idea adesso cosa facciamo a scoprire se la loro storia continua jean ma l'hai chiesto diletta di sposarti e cioè com'è andata a finire questa è una sua povera già come i tuoi telefilm che vedranno quanti cioè vogliamo scoprire di più come va a finire c'è tante novità e ti sei fidanzato e lasciato avevi un'altra ragazza ti sei messo con diletta stai a vivere con diletta non lo so se chiesti di sposarti cioè che vita vorresti fare con lei in particolare e i tuoi fanno cosa che ne pensi di questa cosa qui ho lasciato proprio i tuoi social già non avevi pensato a queste cose qua c'è gli attori tutti quanti siamo capaci di fare qualsiasi cosa di lasciare le scene lasciare gente importante che ci frequentano chi ci sono dietro c'è una storia proprio buia buia totale per te no non vogliamo sapere di più c'è sennò qui non si può finire nessuna parte eh diletta cos'è fatto a sto povero ragazzo non si sa se sapete qualcosa ragazzi mi raccomando un commento sotto questo bellissimo video che appunto sto facendo e ragazze lo so siete rimasti senza parole che ha lasciato i suoi social ma continuerà non si sa come va a finire questa storia andremo a fondo già andremo fino 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 alla fine con diletta leota eh eh e se ti si è toto tu devi togliere anche lei data anche lei è sui social cosa ne pensi di lei sui social e che fa da giornalista a da zone già non avevi pensato a questa cosa qui giusto mi raccomando ragazzi se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace e andatevi a scrivere subito 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 ciao